Noi torniamo ad incontrare Dente qui nei nostri studi. Buon pomeriggio e ben tornato alla vigilia della partenza di una lunga tournée che tra metà novembre e fine dicembre ti porterà in giro un po' in tutta Italia, mettiamola così, perché ci sono date che vanno da nord a sud e non solo. Se guardi bene c'è anche una città che non è molto italiana. Livorno, Taneto, Brescia, Roenna, Bologna, Milano, Vigo Novo, Perugia, Rende, Bari, Catania, Santa Maria Vigo. Non ce l'ho scritta. Non è scritto che c'è Parigi in mezzo. Non c'è scritto, su questo comunicato che io non c'è. Parigi quando? C'è Parigi e chi lo sa, non mi ricordo. I primi dicembre, 3 dicembre, non mi ricordo. Che è la prima volta. No, non è la prima volta che vado a suonare a Parigi, però ci torno sempre volentieri. Bene. Allora, dicevamo di questo singolo. È uscito, che era un brano tra l'altro, se non ricordo male, proprio d'apertura dell'album. Sì, è il primo pezzo del disco. Primo pezzo, una canzone molto bella, te lo dicevo a microfoni spenti, è la canzone che preferisco di più di questo album. In effetti, essendo la prima canzone, è quella che ti proietta subito nelle atmosfere di quello che è stato l'album intitolato al Manacco del giorno prima. È stato ripubblicato come singolo, accompagnato in realtà da tre brani live che sono stati scelti in che modo? Allora, abbiamo scelto, praticamente c'è questo live che abbiamo fatto all'inizio del tour, quindi abbiamo fatto questo tour teatrale, nel quale io a metà concerto mi prendevo questa pausa e facevo dei pezzi chitarre e voce. Tutte le sere facevo dei pezzi diversi, chitarre e voce, due o tre. E li registravo con un registratore a bobine vecchio, un vecchio registratore a bobine. Un roba vintage. Esatto, che mi piacciono a me. E da quelle registrazioni su nastro abbiamo tirato fuori questi tre brani che sono andati in questo EP. Digitale, che è un controsenso. Esatto. Che era però quell'ambito, quel momento intimo all'interno dei tuoi concerti che ti riportava un po' indietro anche ai primi. Mi ricordo un tuo concerto ad esempio al Circo degli Artisti, parlo però veramente di un bel po' di anni fa, chitarre e voce in maniera così molto minimale. Sì, sì. Che esperienza era per te quella di quella parentesi acustica e soprattutto per il pubblico? Beh, è stata una cosa molto bella. Io poi da quando ho cominciato a suonare con la band ho sempre un po' paura a tornare a suonare chitarre e voce, no? Ti senti meno protetto, diciamo. Mi sento molto meno protetto. A me sono abituato comunque ad avere una band. In realtà ho fatto tanti anni a suonare chitarre e voce e ho un po' paura di aver perso anche quello smalto, diciamo, di una volta. Il carisma che bisogna avere quando chitarre mi siano un po' in pavio. Ero molto più spavaldo una volta, no? E salivo sul palco con il chitarrino e andavo e facevo le cose. Adesso ho perso un po' quella cosa lì, appunto, perché suono tanto con la band. Però quella parentesi che mi sono preso in teatro mi è piaciuta molto. Un po' perché appunto nel teatro veniva molto bene questa cosa di essere da solo, di registrare. Registravo proprio io con il registratore a bobina che era sul palco. Ah, proprio schiacciavo il tasto sì, schiacciavo il tasto io. E quindi, insomma, è stata una bella cosa. Poi appunto nel teatro si possono fare queste cose. Beh, è il suo bello. Certo. È un periodo, quello di dente, in cui sei riuscito anche a scrivere? Stai lavorando su cose nuove, materiale nuovo? Sì, ho qualche cosa, qualche cosa. Ogni tanto non sono uno che si prende dei periodi per scrivere. Scrivo quando mi viene, insomma, nel tempo. E poi quando ho abbastanza canzoni faccio un disco. Quindi non so quando ci sarà abbastanza materiale. Per adesso non ce n'è abbastanza, però ogni tanto scrivo qualche cosa. Ho qualche pezzo bellissimo scritto. Delle vere e proprie hit. Ma sì, ma ovviamente scrivo solamente pezzi meravigliosi dei capolavori. Destinate a lasciare il segno. Per quello che riguarda questo, diciamo, tour con il quale appunto tornerai. Si chiama Gran Band Epilogo Tour. Questo è il nome, no? Sì, mi piaceva questo nome. Mi sembrava il titolo di un disco progressive anni 70. Gran Band Epilogo. Esatto, quelle cose con il consorcio e l'acqua pudaria. Sì, l'ho chiamato così perché appunto è l'ultima parte del tour di quest'anno e di questo disco, quindi che chiude la vita, diciamo, dal vivo di questo album che è uscito a gennaio. E perché Gran Band? Perché saremo la mia solita band, la band che mi ha accompagnato in questo tour, che siamo in cinque, in più avremo tre fiati. Quindi c'è una sezione fiati in più, quindi siamo in otto sul palco e con scaletta un po' insomma rimaneggiata, abbiamo preso in mano dei pezzi appunto dove nei dischi ci sono i fiati che dal vivo è un po' difficile farli senza i fiati ovviamente, quindi possiamo permetterci di fare anche delle cose. E poi abbiamo rearrangiato altri pezzi con i fiati. Sarà una cosa un po' così, insomma, non l'ho mai fatto, un tour intero con i fiati deve essere interessante. Ti conserverai il tuo momento acusi o ti porterai ancora una volta il registratore sul palco? No, non credo. No, anche perché questo giro sarà fatto nei club e quindi è un po' più difficile fare quelle cose rispetto al teatro. Certo, c'è insomma un pubblico un po' più rumoroso. C'è un pubblico rumoroso che beve la birra al bancone, giustamente. Giustamente. Però alla quale bisogna ogni tanto richiedere un po' d'attenzione e spesso alzare il volume serve. Io faccio fatica a richiedere attenzione al pubblico, faccio molto fatica a chiedere al pubblico di fare delle cose, tipo battete le mani qua, cantate questa cosa. Tu lo fai sempre, i tuoi concerti è un classico, dai su le mani ragazzi. Esatto, mi dà quasi fastidio, insomma. Quindi non lo faccio mai. Ti ha fastidio anche da spettatori quando vai ai concerti e trovi la rockstar? Un po' sì, perché quando io vado a vedere un concerto mi dicono battete le mani e io dico ma scusa le batterò se lo voglio di battere, perché devi dirmi quello che devo fare, scusa. Certo. Allora il tour in questo momento non prevede Roma, sto vedendo le date. Per adesso non c'è Roma, è l'unica tecnica, diciamo, state risolvendo una serie di... Sì, perché è diventato un po' difficile andare a Roma. Purtroppo sì, possiamo consigliare. Eh sì, e quindi stiamo cercando la location giusta. Perché non può mancare Roma, diciamo. No, 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 assolutamente. Nel grande epilogo di Dente, visto che con Roma hai un rapporto... Ecco, che rapporto ha Dente con Roma? Beh, un ottimo rapporto con Roma, innanzitutto la città mi piace tantissimo, ci vengo sempre molto volentieri e poi, insomma, c'è un bellissimo pubblico qua. È uno dei più belli che ci sono in Italia, questo lo dico in tutte le città in cui vado, ovviamente. Certo, è un classico. Vi amo. Vi amo, siete il pubblico migliore che ho avuto. Sarebbe da fare una sorta di decalogo su quelle che sono le frasi fatte delle rock star, credo che tra l'altro esista, insomma, una sorta di manualetta al quale attenersi all'inizio della carriera. Tu hai subito invece messo da parte, diciamo. Io sì, no, queste cose non le faccio. Mi ricordo che in una delle chiacchierate che abbiamo fatto ti dà molto fastidio ad esempio i cantanti italiani che cantano in inglese, che tra l'altro dicono, dai ragazzi, adesso ti ascoltiamo e poi parte il cantante in inglese. Sì, mi fa un po' sorridere, diciamo così, no? Tutto un concerto in inglese, cantato in inglese e poi trompezzato tutto. Il prossimo pezzo si intitola Once the Last Fest. Eccolo, dai ragazzi. Dai ragazzi, esatto. Ce l'ascoltiamo. Infatti, forse ti avevo anche raccontato quella storia fantastica di un festival che avevo fatto a Bologna, dove, tanti anni fa, dove io ero l'unico che cantava in italiano e tutti gli altri erano band italiane che cantavano in inglese. E quindi Trompezzo e l'altro parlavano in italiano. Non mi dire che tu hai parlato in inglese Trompezzo e l'altro. Certo. Fantastico. Trompezzo e l'altro ho parlato solamente in inglese e poi facevo le canzoni in italiano. E li hai spiazzati in una maniera... Si, mi hanno odiato tutti ovviamente. Come farsi a odiare? Una cosa stupenda. Questa non me l'avevi raccontata questa qui. Adesso, volevo esserci. Questa è la cosa. Senti, quando si chiuderà il grande epilogo tour, siamo a ridosso del Natale, quindi insomma a Natale non si sfugge, ci sono quelle cose che si fanno e tutti ormai noi facciamo in famiglia, ma poi che 2015 sarà per dentro? Poi non lo so, in realtà il tour si ferma e non so bene cosa... ho un po' di progetti in testa. Bisogna capire dove metterli, come metterli, quando uscire, con delle cose... Ho delle cose sia musicali che extra musicali. Nella testa che sto costruendo piano piano... C'è un libro, non mi dire. No, non si sa. Non si può scappare dal libro. Non si può scappare. È un altro di quelli... Vediamo, vediamo, insomma. Ho un po' di cose fatte da fare. Capiamo un po' il 2015 cosa sarà. E in più mi piacerebbe registrare anche il disco nuovo, che non so quando vedrà la luce. Se raggiungo il numero legale di canzoni per costruire un disco, lo faccio. Disco però immagino abbia già un titolo, in Italia, no? Ho un titolo di un disco, ce l'ho, un titolo di un disco, però ovviamente non te lo dico. Te lo rubano subito. Grazie a Dente per essere stato con noi. Ci vediamo presto a Radio Città Futurale. Molto volentieri. Ciao. Ciao, ciao.